Accostatevi! Riporta in terza posizione di Ottinto e Romanico. Cavalli in fine indiana con i primi tre intervallati da un paio di lunghezze. Aumenta la dottura resta che lascia a quattro lunghezze Rombo dei Sedini. Più staccati gli altri con Romanico che prova a riportarsi sotto. Remorex e Riottito che scivola in ultima posizione. Cavalli che stanno per imboccare la piegata conclusiva con resta avvicinato da Rombo dei Sedini. Ormai i due viaggiano in coppia. Si presentano in diagonale. Fanno l'ingresso in addirittura con resta che mantiene il comando della corsa nei confronti di Rombo dei Sedini. Richiamato ora resta a lunga su Rombo dei Sedini che mantiene la seconda posizione minacciata dal ritorno di Romanico. Ai cento conclusivi si ingamba all'esterno Rombo dei Sedini che tende a passare. Rombo dei Sedini che passa ai cento con Salvatore Masile in sella. E viene a griffare questa sesta corsa premio Gazzetta dello Sport nei confronti di resta Romanico e del numero quattro Riottito.